La festa di San Martino è alle porte e come per tradizione ci si prepara a festeggiare con le leccornie che la tradizione siciliana offre. Una festa religiosa, quella di San Martino, associata simbolicamente alla maturazione del vino novello che rappresenta un'occasione di ritrovo e festeggiamenti nei quali si brinda appunto stappando il vino appena maturato accompagnato dai classici biscotti di San Martino o dalle muffolette che a seconda dei gusti possono essere condite con ricotta e miele, con il ragù o più semplicemente con olio d'oliva. Noi abbiamo due tipi di biscotti di San Martino, il biscotto diciamo tradizionale dove è fatto con la farina, il sale, il lievito, lo zucchero, lo strutto, i semi di anice e questo sarebbe il biscotto tradizionale di San Martino. Poi invece non è tradizione nostra specialmente nissena perché la tradizione nostra nissena era la focaccia. Per quanto riguarda la muffoletta, la muffoletta nasce a San Cataldo, a Riesi e a Santa Caterina. Noi questo tipo di muffoletta l'abbiamo rubata i sangataldesi per quale motivo? Perché non c'era questa tradizione di ricotta e miele. Possiamo dire che però oggi abbiamo superato i sangataldesi e anche quelli di Riesi. Anche se ancora a Riesi devo dire che c'è una muffoletta che è molto buona, che io l'ho gustata ed è semplice. Il biscotto di San Martino, il proprio biscotto, una volta, che non era una tradizione dei panificatori ma delle pasticcerie, anche in questo caso dobbiamo essere obiettivi e non abbiamo rubato il lavoro altrui. Veniva imbastato, veniva invornato e poi veniva messo in davoloni di legno e messo ad essiccare sopra i forni. Oggi questa tradizione è pure cambiata perché oggi vogliono il biscotto caldo e morbido. Cioè San Martino per quale motivo? Perché si aprivano le botti e c'era il biscotto, beh io mi ricordo ancora ecco, duro, che si immergeva nel vino e si mangiava. Oggi diciamo che la tradizione ce li siamo un pochettino giocate. Conte riguarda la muffoletta può essere anche condita in una versione salata? Sì, la muffoletta può essere condita con miele e ricotta, anche, ecco, domani anche noi faremo la muffoletta, stanotte prepareremo anche il ragù e lo faremo pure il ragù perché molte persone la preferiscono.